Prima abbiamo parlato della pigrizia, ma adesso c'è una parola altrettanto importante per Ivan Graziani che è la provincia e a spiegarcela sarà proprio il nostro Barba Sofia, sempre molto conciso. Voilà! Prego! Allora, anche in questo caso vi propongo una doppia lettura della parola in questione, provincia. Ovviamente la provincia può essere un luogo chiuso, un luogo che soffoca, un luogo di poche opportunità le cui radici importanti però sono anche pesanti, impediscono il movimento, la fertilità, la contaminazione. Ma a me piace immaginare una seconda lettura della parola provincia. La provincia invece è come terra da cui partire per rinascere, per una riscossa, una terra in cui si sta bene ma è anche il punto di partenza per poi viaggiare. Vi faccio un esempio. La filosofia non nasce ad Atene, noi ci immaginiamo tutti, no? La filosofia è nata ad Atene, invece no, nasce in provincia, nasce nella penisola anatolica, in Turchia, a Mileto. Perché nasce a Mileto? Talete, Anassimandro, Anassimene? Perché la provincia è anche libera, libera in quel caso dal potere religioso, dal potere politico. E dunque questi autori hanno una libertà per poter sperimentare. C'è un altro autore che non mai definiremo provinciale, Kant. Ha scritto tutte le sue opere a Königsberg. Non è mai uscito a Königsberg, non ha accettato nessuna proposta di nessuna università tedesca. E ha scritto la critica della giopratica, la critica del giudizio, ha parlato di bello e del sublime. Diremmo del provinciale, daremmo del provinciale a Kant? No, tantomeno lo possiamo dire nel senso negativo. Di Ivan Graziano. Perfetto. Grazie.